Sì, siamo qui a Raciški Stržen, è Natalino e Mauro che si scrive. Ciao Mauro, bene, bel fresco, si, non vuol dire niente, minimo 150, fermo tutto ora, ecco i due balli giovani su dai, niente, siamo nebbiano i amso, dimmo villica jahe. guarda dall'altra parte ciao ottimo perfetto ciao ma no ma se fango ecco no è un orso, questo si è orso, piccoli orsi orso, orso si è bellissimo deve dare ma incredibile dai l'aria no? grazie è interessante di proteggere vai, Natalino va proprio bene se senti per quello ti ho dito che non dovremmo trovare neanche le carfioline per terra, te le vedi? le hai il deposito di condensa vecia la parola la parola la parola la parola la parola se puoi partire un pochettino avanti fa un segno che se vedi come cosa a noi grazie 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 grazie